Eleonora Daniele, arrivata alla decisione della Rai sul futuro di storie di sera Eleonora Daniele confermata nella seconda serata di Rai 1, le anticipazioni Per la conduttrice si è chiusa una stagione televisiva di grande successo Difatti quest'ultima con storie italiane ogni mattina ha ottenuto ascolti molto buoni Tanto da incassare i complimenti del direttore del Daytime Rai Angelo Mellone sul finire dell'ultima puntata di questa edizione Gli ascolti sono migliorati e molte volte storie italiane è stato leader di fascia Si ricorda che la conduttrice nei mesi scorsi ha anche condotto lo spin-off del suo programma mattutino in seconda serata sempre su Rai 1 dal 23 ottobre al 15 novembre 2023 E il secondo ciclo dall'8 al 29 aprile 2024, ottenendo anche in questo caso un buon successo a Auditel E sarà proprio per questo motivo che Pare sia stato riconfermato anche nella prossima stagione A rivelarlo è stato il portale televisivo tvblog.it Gli ascolti di storie di sera, com'è andata la conduttrice in seconda serata? Adesso che Eleonora Daniele Pare abbia ottenuto la riconferma anche nella prossima stagione tv con il suo spin-off di storie italiane Almeno in base a quanto riportato da tvblog.it, andiamo a vedere gli ascolti ottenuti nei mesi scorsi Il primo ciclo di puntate andate in onda dal 23 ottobre al 13 novembre 2023 ha ottenuto una media di 1.553.000 spettatori a casa e uno share del 14,13% nella prima parte, mentre nella seconda i telespettatori sono stati 728.000 con poco più del 10% di share Il secondo ciclo della trasmissione andato in onda dall'8 al 29 aprile 2024 condotto dalla Daniele, la quale ha incassato i complimenti di Mellone Ha invece ottenuto una media nella prima parte di 1.058.000 spettatori a casa con uno share del 9,6% di share e nella seconda i telespettatori sono invece stati poco meno di 500.000 con il 6,50% di share Rispetto al primo ciclo di puntate il calo c'è sicuramente stato, anche se c'è da dire che stavolta ha avuto contro l'isola dei famosi di Vladimir Luxuria La seconda serata di Rai 1 confermata in blocco In base alle indiscrezioni raccolte dal portale televisivo tvblog.it storie di sera non è stato l'unico programma in seconda serata ad essere stato confermato nella prossima stagione tv dell'ammiraglia Rai Difatti anche cose nostre condotto da con Emilia Brandi, ventunesimo secolo di Francesco Giorgino, tv7 il venerdì sera dopo tale e quale show e gli speciali tg1 della domenica avrebbero ottenuto il lascia passare E questo vuol dire che i risultati della seconda serata di Rai 1 della stagione tv appena terminata ha soddisfatto in pieno i dirigenti dell'azienda pubblica televisiva Il portale tv di blog ho anche dichiarato che la programmazione delle trasmissioni di Eleonora Daniele, Francesco Giorgino e Emilia Brandi dovrebbe rimanere invariata con l'alternanza Si appicenderanno dunque nel corso della stagione cose nostre, con Emilia Brandi, ventunesimo secolo con Francesco Giorgino e storie di sera con Eleonora Daniele